. Monte non è un santo, la canna non è educativa, e la mamma di Cecilia Rodriguez mette liche. In foto, credits, foto Francesco Monte, frezza la fata, IPA. . Un lungo post pubblicato su Instagram da una pagina nata a sostegno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Mosera ha incassato il sostegno di Veronica Cozzani. . La donna, madre dei fratelli Rodriguez, ha lasciato intendere di non avere apprezzato che, all'Isola dei Famosi, si sia trattata con tanta nonchalance la questione della marijuana presumibilmente consumata in villa da Francesco Monte, così come indicato da Avenger. . Il post che ha incassato il sostegno di Veronica. . 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 La scena dell'armadio tra Cecilia e Ignazio. . La scena dell'armadio cui il post si riferisce si è verificata nella casa del grande fratello Vip. . . Fu catturata dal pubblico della trasmissione e fatta girare su social, a indicare che i due si fossero chiusi nell'armadio per consumare del sesso orale. . Fu la stessa produzione del reality a smentire quella versione, seguita successivamente da Cecilia e Ignazio che hanno negato di aver mai praticato nulla del genere in quel frangente. . La polemica cui Eva Enger ha dato il via. . La polemica relativa al presunto consumo di marijuana da parte di Monte, invece, fa riferimento all'accusa che Eva Enger ha mosso all'ex compagno di Cecilia Rodriguez. . Durante la diretta della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, la donna ha denunciato Francesco per avere violato il regolamento della trasmissione, che impone ai naufraghi di non consumare alcuna sostanza stupefacente per tutta la durata del gioco. . 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